Oggi prepariamo gli zaletti, tipici biscotti morbidi di Verona a base di farina di polenta. Portate ad ebollizione il latte con il bicchiere d'acqua, lo zucchero e la vaniglia. Aggiungete anche il burro e girate con una frusta. Quando il latte prende il bollore, versate poco alla volta la farina di polenta e stemperatela con una frusta. Poi unite anche la farina 00. Lavorate la polenta per evitare la formazione di grumi e cuocetela girando spesso per 10 minuti. Ecco come si presenta la polenta dopo 10 minuti di cottura. A questo punto spegnete il fuoco e trasferite la polenta in una ciotola e fatela raffreddare. Una volta raffreddata la polenta, lavoratela con le tre uova sbattute, la scorza del limone e la bustina di lievito. E per finire l'uvetta mollata e strizzata e i pinoli. Rivestite una teglia da forno con la carta forno e formate gli zaletti. Prendete una cucchiaiata d'impasto e trasferitelo semplicemente sulla teglia. Per la cottura, preriscaldate il forno a 180 gradi e quando avrà raggiunto la temperatura, infornate gli zaletti per 25-30 minuti in modalità ventilato. Non dimenticate una spolverata di zucchero a velo prima di servire. Grazie a tutti.